Clamoroso al pianeta calcio, i Dinamo Zanardi sono in vantaggio 1-0 con i fa caldo, ma di clamoroso c'è che Fabio Cirillo qui sul palo ha realizzato il gol del vantaggio per i blu, punizione adesso per Checco Paolo 5, ci prova di potenza, Izzo con il corpo, manda in calcio d'angolo Calcio d'angolo già battuto con Sorrentino, ancora per 5, la difende in mezzo a 2, ancora il tacco ottimo per Sorrentino, in mezzo per Di Marino, che azione stile Barcellona per i fa caldo, che pareggiano 1-1 Tutto parte dal fisico di Checco Paolo 5, poi la giocata di Sorrentino in mezzo per il bomber Di Marino, che non ha perdonato da due passi, punteggio dunque nuovamente in parità, 1-1 Vediamo la pronta reazione di Dinamo Zanardi con Di Tommaso, che proverà a calciare direttamente, lo fa male, direttamente dalle galline, nessun problema per Brin, altro prestito per i fa caldo Un prestito ciascuno con Di Tommaso e Brin, 1-1 anche il punteggio, lungo lancio con De Vincenzo che lascia scorrere, rimessa in gioco, già battuta, poi intercetta Cirillo, attenzione al break Ancora Cirillo può calciare, la palla che sfiora il palo, indemoniato oggi Fabio Cirillo Di Tommaso anticipa Sorrentino, Di Vincenzo la tiene in campo, palla con il campanile alzato da Cirillo Prova a tenerla in campo e ci riesce, attenzione Porfido la regala però a Sorrentino, che può esplodere il sinistro, lo fa Poi Cardone allontana, dopo la rispinta di Izzo Palla per Cirillo che la tiene in campo, attenzione la mette dietro per Ballo che scivola Poi il dribbling, ballo ancora, un rimpallo, il contropiede fa caldo De Vincenzo allarga per Di Marino, per Sorrentino scusate che viene preso in controtempo Seguiamo quest'ultima azione, prima di chiudere il collegamento Vediamo la rimessa in gioco dei Dinamo Zanardi Con Di Tommaso che con tutta calma può mettere questo pallone Gioca per Maglio Ballo Cardone, lungo linea per Cirillo che prova una giocata Non riesce a tenere il pallone in campo, 1-1, chiudiamo qui il nostro collegamento Gran vittoria in rimonta per i fa caldo, 3-2 contro la Dinamo Zanardo Il migliore in campo, c'è un ex equo, Gianluca Di Marino e Ciro De Vincenzo Partiamo dall'uomo che si asciuga la testa qui Bella vittoria, la squadra c'è La squadra c'è, queste sono dichiarazioni importanti Dopo questi risultati un po' altarenanti puntiamo molto in alto Semifinali, va! È gasatissimo, Gianluca, vogliamo volare un po' basso? Tu che sei sempre più moderato Sì, sì, voliamo basso Sono ancora 4 partite prima dei off Sono molto contento che il mio compagno sia sbloccato Sbloccato dopo tanto tempo Io dedicherei il gol al 100 lote che prenderà Giovanni Sorrentino E' importantissimo anche l'assist per il 3-2 Veterani, veterani Anche a un ragazzone E' arrivato il Copalo 5 Assente dopo due mesi Decisivo, decisivo Va bene, in bocca al lupo, ciao ragazzi